È stata un'emozione indescrivibile, era il mio primo gol in Serie A, con la fascia da capitano tra l'altro in uno stadio, davvero non l'avrei mai immaginato, sono sincera, e soprattutto è stato un gol fondamentale per portare questi tre punti a casa contro una signora squadra, quindi vale sei, è bellissimo, comunque Ceci fa gol spesso, è importante, è una di quelle che segna di più in questa squadra, e vedere il mio nome accanto al suo fra le marcatrici mi fa pensare a quanta strada abbiamo fatto insieme. Sapevamo che sarebbe stata una partita di sacrificio, in cui c'era bisogno di correre tanto, in un campo comunque grande, in erba, in cui non siamo abituate, e la squadra è entrata in campo con l'atteggiamento giusto, ha avuto voglia di lottare, e secondo me queste partite le vince chi ha più voglia di lottare. Evidentemente oggi ne abbiamo avuta di più noi, sicuramente loro sono state davvero brave, perché comunque ci hanno messo molto in difficoltà, ma sono contenta che la squadra sia riuscita a gestire la partita, soprattutto nei minuti finali, visto che contro il sassuolo non c'eravamo riuscite, per noi questo è un grande passo in avanti. Giocare in uno stadio con tutta questa gente è bello, ma farlo in casa nostra con i nostri tifosi penso che amplifichi tutto ancora di più. A questo punto noi non abbiamo paura di dire che lottavamo per la salvezza, sì, ma ci siamo reso conto che abbiamo delle potenzialità e vogliamo sfruttarle, quindi andremo ad affrontare la Juve a testa alta, siamo in casa nostra, non abbiamo nulla da perdere, vediamo come andrà. Venite tutti al Castellani perché abbiamo bisogno di voi, è una partita importante non solo per noi ma per tutto il calcio femminile, quindi vi aspettiamo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.